Nella vita ci tocca, scrive Don Luigi Maria Picoco, imparare a scegliere anche ciò che non abbiamo scelto e scegliere ciò che non abbiamo scelto ci porta appunto a vivere e a cercare momenti di solitudine per poter vivere in maniera serena, gioiosa, felice. Nella puntata di ieri abbiamo visto come l'uomo per vivere non ha bisogno solo di chiedersi chi è, ma anche di chi è, a chi appartiene. E questo chiederci e questo riscoprire il nostro senso di appartenenza ci farà essere uomini responsabili, consapevoli. Essere responsabili appunto vuol dire anche scegliere ciò che io non ho scelto. Per esempio, io scelgo il rispetto delle norme, delle regole, anche quelle che semmai mi sono strette, perché so che appartengo ad un popolo, ad una società. Io scelgo di essere libero perché anche gli altri uomini siano liberi e oggi noi scegliamo la libertà non perché ce la siamo costruita o guadagnata, ma perché altri prima di noi hanno lottato, hanno dato la vita per la mia libertà. Io oggi scelgo ciò che io non ho scelto per poter far sì che io diventi libero, che io sono libero, ma anche i miei figli, anche il domani, il mondo futuro, possa essere un mondo libero. Fare scelte che non vorrei fare, ma che sono necessarie per la convivenza di tutti, per la famiglia, per la stessa comunità cristiana, ci aiuta appunto a vivere una solitudine positiva. Una solitudine in cui io mi scopro non un'isola, ma al massimo mi scopro una penisola. Perché la penisola è fatta di tante isole, l'umanità è fatta di tanti io che diventano appunto un noi, che diventano appunto una forza, che diventano una comunità, un insieme. Quindi ricordiamo sempre appartenenza e singolarità delle persone. Ricordiamo sempre questo, perché questo è importantissimo. Questo è veramente vitale per la nostra vita. Ciò sta a significare, cioè toccare, di imparare a scegliere anche ciò che non abbiamo scelto, che è la cosa più bella, scrive Don Luigi Epicoco, e più interessante che noi potremmo fare è avere il coraggio di scegliere situazioni e tempi di solitudini che possono aiutarci a vivere in maniera positiva. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, Dritto al Cuore. Ciao a tutti! Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, Dritto al Cuore.